Seconda serata, festa della cassante, siamo in Salento e alla baracca non fa niente che passano perché passano tutti davanti. Noi con una bella canzone, figlia figlia, facciamo un po' vedere i nostri prodotti. Nella baracca Dolce Vite, giusto? Lui è il proprietario, fanno vedere il proprietario, è il signore che è il proprietario, fa degli ottimi prodotti. Cosa propori questa sera? A calafritto, a calafritto, pollo alla braccia, pastimisti, foglie e patate. Ok, se ti parla nasce anche che troppo tornavo, va bene, noi ti facciamo una bella canzone, figlia figlia figlia, vai. Figlia figlia con il mio palo, mamma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.